Buonasera e ben ritrovati con l'informazione sportiva di Telemolise. In apertura calcio di Lega Pro sconfitta per il Campobasso nella lunga trasferta di Palermo. Approccio alla gara sbagliato degli uomini di Cudini sotto di due gol dopo appena cinque minuti. Il servizio. Il Campobasso si arrende al Palermo, al Renzo Barbera, con 130 tifosi encomiabili al seguito. La squadra paga un inizio da film horror, poi rimane in dieci ma è brava nella ripresa a buttare il cuore in campo. Troppi episodi contrari fra cui il calcio di rigore spedito sulla traversa da Bontà a ripresa inoltrata. Tre punti d'oro per Giacomo Filippino, un momento delicato della stagione. Dirige il signor Gabriele Scatena di Avezzano dopo quattro minuti. Punizione per il Palermo, Sbardella non la lascia scorrere fuori, allora l'azione prosegue. L'iniziativa è di Floriano che entra in area e serve Lancini. Il difensore rosa-nero appoggia l'indietro per Silipo che con il sinistro fulmina Raccichini. Palermo 1, Campobasso 0. Neanche il tempo di riprendere il gioco che i rosa-nero bissano. Viene lanciato a rete Floriano in sospetto fuori gioco. Bravissimo Raccichini ma la palla rimane in possesso dei locali. Arriva Valente che va a battere il portiere ospite con un tiro a giro. Palermo 2, Campobasso 0. Incredibile avvio dei siciliani dopo soli cinque minuti avanti di due gole che potrebbero triplicare al quarto d'ora con Floriano. Defilato, ci vuole un pezzo di bravura di Raccichini. Qui il Campobasso non può solo subire. Le cose iniziano a riequilibrarsi e i rosso-blu tirano la testa fuori dal guscio. Prima con un tiro di Vitali del trentaseiesimo. Respinge la difesa di casa. Poi con Rossetti che calcia fuori una palla-gol di proporzioni ingenti. E siamo quasi al trentottesimo. Al quarantunesimo Mancino al lato dello stesso Vitali dopo la battuta di un calcio di punizione. Nel finale molto ingenuo. Giunta del Campobasso a commettere fallo su Soleri nella metà campo del Campobasso. Il signor Scatena non lo perdona e lo ammonisce per la seconda volta. Rosso-blu sotto di due gol e di un uomo ma bravi a non perdere la calma nella ripresa. Quando Cudini dal primo minuto estromette un impalpabile Emmausso per inserire Tengorang. Ospiti che passano così al 4-3-2. Nel secondo tempo il Barbera racconta di un certo equilibrio ma di poche palle gol. Al nono eccolo il lampo del Campobasso con Rossetti che va via ad un avversario e fulmina Pelagotti. Campobasso in partita. Filippi mischia le carte dentro dall'Oglio e Doda fuori Luperini e Dalmici. Ristabilita la parità numerica al quattordicesimo quando Oier che commette un brutto fallo su Candelori riceve un cartellino rosso diretto. I lupi possono ora approfittarne. Cambi di Cudini dentro pace e fuori vitali. Ospiti con il solo Rossetti di punta. Succede poco ma gli episodi incidono nell'economia della gara. Al trentatresimo Tengorang si invola verso il portiere avversario ma viene fermato così da Lancini. Cioè in maniera irregolare. Calcio di rigore per l'arbitro. Cudini invoca anche l'espulsione del difensore del Palermo che non avviene. Dal dischetto Bontà contro Pelagotti è solo traversa con tutte le recriminazioni del caso. Per il Campobasso anche perché solo due minuti più tardi il neo entrato Brunori è lanciato a rete. Inseguito dalla difesa ospite riesce a battere Raccichini per il definitivo gol del 3-1. Il Palermo è in estasi. Passa dal rischio del pareggio alla conferma del successo. Il Campobasso deve mangiarsi le mani. Locali che fanno entrare il molisano per rotta al posto di Lancini. Cudini getta nella mischia due punte di Francesco e Liguori al posto di Candelori e Vanzan. Ma succede poco o nulla. Al novantesimo protesta il Campobasso per una presunta spinta di Marconi ai danni di Liguori. Il signor Scatena ignora l'accaduto. Il Palermo vince e alleggerisce il periodo di crisi. Il Campobasso subisce il secondo 3-1 consecutivo e si rammarica per gli episodi contrari ma soprattutto per l'approccio alla gara da incubo. Lo scorso fine settimana tra gli appuntamenti internazionali ospitati in Molise è la Silver Nation League di City Volley. Ai nostri microfoni il delegato tecnico del Paravolley Europe. Nello Calleia, delegato tecnico del Paravolley Europe in Molise a Campobasso per questo evento. La Silver National League Men. Primo evento in Italia dopo questa pandemia che aveva bloccato lo sport mondiale. C'è tanta voglia da parte vostra ma soprattutto anche da parte degli atleti di tornare in campo e confrontarsi. Sì perché purtroppo queste manifestazioni che stiamo facendo quest'anno propriamente dovevano essere fatti l'anno scorso però ovviamente non potevamo fare niente. Allora abbiamo deciso di trasferirli tutti a quest'anno. Praticamente questa è una competizione nuova che noi stiamo organizzando per il primo anno dove tutte le squadre in Europa sono divise secondo il loro ranking e poi ovviamente giocano alla Golden o alla Silver o alla Bronze Nations League. Questa è la Silver, abbiamo cinque squadre io direi di uno spessore buono tecnico però non sono i migliori in Europa quelli che hanno già giocato in Olanda però poi serve a loro perché devono prepararsi per i campionati europei tra meno di un mese. Sono manifestazioni quindi che avvicinano a questo campionato europeo quest'anno aperto a tutti proprio forse per recuperare lo stop anche nello scorso anno. Esattamente normalmente abbiamo soltanto 12 squadre che partecipano ai campionati europei però quest'anno li abbiamo aperto a tutti quelli che potevano venire in Turchia. Per esempio la Gran Bretagna che aveva dei problemi fino a qualche giorno fa ci aveva detto che non poteva venire allora si è tolta dalla manifestazione. Abbiamo 27 squadre in Turchia, 16 maschi e 11 femmine e speriamo di avere una competizione molto molto bella anche lì. Qua devo dire che le squadre sono molto molto vicini praticamente finora abbiamo avuto solo 3 a 1, 3 a 2 nessun 3 a 0 che mostra un po' che le squadre sono di un livello molto molto vicino. Un movimento quello paralimpico del volley in questo caso in crescita che ha bisogno poi alla fine anche di queste manifestazioni che poi sono uno spot per promuovere lo sport paralimpico anche per quegli atleti che forse credono che una disabilità li possa bloccare ma poi vediamo in campo che assolutamente così non è, anzi. Io sono nel paravoglio adesso per il mio undicesimo anno e quando l'ho conosciuto undici anni fa anche per me era una scoperta poi mano a mano tu cominci a sentire e capire le storie di queste persone chi è nato così, chi ha avuto un incidente, chi ha avuto una malattia poi tu sai diventi anche amico. La cosa bella che abbiamo nel paravoglio è che stiamo ancora una grandissima famiglia allora ci conosciamo, ci incontriamo due, tre, quattro volte l'anno e questi ultimi domani erano molto brutti per dire la verità però adesso che abbiamo già cominciato, quest'anno abbiamo avuto già quattro manifestazioni questa è la quinta, poi avremo la sesta in Turchia siamo molto contenti che anche quest'anno siamo riusciti a cominciare per esempio il beach paravoli che si gioca tre contro tre, sia seduti, abbiamo anche in piedi cioè abbiamo due discipline diverse e speriamo che anche l'Italia lì che in Slovenia ha fatto molto bene, è arrivata seconda con i maschi nello standing nel beach paravoli, siamo sicuri che tra qualche anno avremo anche i tornei di beach per paratleti anche qui in Italia. Calcio di Serie D, Vasto Girardi e Matese si sono sbloccate entrambe domenica scorsa la squadra di Prosperi ha pareggiato contro la Vastese i ragazzi di Urbano con il Nereto, domenica le due formazioni si sfideranno al Ditella di Vasto Girardi ancora un premio per il gruppo sportivo Virtus durante la giornata dello sport indetta dalla Regione Molise ai nostri microfoni il presidente dei Giallo Blu Nicola Paranello, presidente della Virtus presenti alle premiazioni della settima giornata dello sport Regione Molise per un atleta in particolare Sì, siamo stati invitati perché verrà premiata, non so con quale motivazione credo per i risultati che ha fatto Letizia quest'anno la nostra atleta Letizia Delisa Letizia Delisa, quindi sicuramente un motivo di orgoglio per voi, per la vostra società che quest'anno 2021 farà registrare finalmente, sottolineo, il ritorno della Sue Giù Sì, proprio in questi giorni noi abbiamo deciso, dopo che abbiamo avuto l'ok dal sindaco, dalla questura di rispettare le regole, di rifare la Sue Giù abbiamo sentito che la città lo voleva, lo sperava ci stiamo preparando, anche se i tempi siamo molto ristretti abbiamo già scelto il tema che sarà collegato un po' alla rinascita nostra che stiamo vivendo e la faremo il 14 di novembre Considerato che non si è a tutti gli effetti fuori dalla pandemia alcune manifestazioni sono state limitate anche nel 2021 credo sia stato un percorso tortuoso arrivare alla rinascita della Sue Giù Noi siamo stati incisi fino alla scorsa settimana proprio perché non conoscevamo i protocolli precisi eccetera poi avendo visto che ci sono i protocolli precisi già in giro per l'Italia ne abbiamo parlato in comune, a Campobasso e a quelle istituzioni hanno accettato, lo definiremo in questi giorni ma noi siamo partiti nell'organizzazione volevo ricordare però che quella di oggi rappresenta un po' la ciliegina su tutto quello che i nostri ragazzi hanno fatto in questi due anni di completo fermo dell'atletica i nostri ragazzi non si sono mai fermati e i risultati che ha avuto Letizia, Leo Paglione tutti ai campionati italiani assoluti e tutti gli altri ragazzi e il lavoro dei nostri tecnici hanno risposto a questo lavoro fatto Un parere sulle Olimpiadi abbiamo gli atleti più veloci del mondo un tuo parere lo hanno detto le Olimpiadi 2020 che si sono fatte nel 2021 a Tokyo abbiamo risposto ai guai della pandemia con lo stile italiano quindi tutto lo sport sia i velocisti ma tutto il nostro sport ha avuto la rinascita che parte dallo sport A proposito del gruppo sportivo Virtus domenica a Camposcuola Nicola Palladino di Campobasso a partire dalle 10 tornano le Virtusia di 2.0 storico appuntamento all'insegna del connubio tra gioco e sport destinato ai ragazzi dai sei anni in su la manifestazione sarà apripista di una serie di eventi promozionali stagionali che la società campobassana proporrà per far conoscere alle nuove generazioni l'atletica leggera disciplina sportiva alla base di ogni attività fisica è sempre per l'atletica domenica scorsa in gara nell'americana che ha chiuso l'appuntamento con la Corri Isernia 2021 la gara è stata vinta da Pasquale Selvarolo della Casone Noceto vediamo Pasquale Selvarolo della Casone Noceto prima partecipazione prima vittoria all'americana qui alla Corri Isernia sensazioni l'anno scorso non si è tenuta questa manifestazione ma quest'anno insomma hai partecipato alla grande sì avevo sentito da più amici di questo evento mi hanno tutti parlato benissimo dell'atmosfera che c'è della gara che è ed ero veramente contento di partecipare quando sono stato invitato dall'organizzazione non potevo farmi correre impreparato vengo da un periodo di preparazione importante sapevo di poter fare bene non mi aspettavo di vincere sinceramente però sono arrivato bene nella parte finale di gara e ho deciso di dare quello che avevo è andata benissimo e sono felicissimo con l'atletica Casone siete riusciti ad imperversare da protagonisti c'è anche un secondo posto certo c'è il mio compagno di squadra Med compagno di squadra di gara di allenamenti è un grande amico sono contento di essere arrivato fino alla fine con lui ovviamente in gara è gara per tutti quanti però sicuramente condividere il podio con un compagno di squadra è davvero un'emozione bellissima e sono veramente contento argomentavamo che non avevi mai preso parte a questa manifestazione ti chiedo un giudizio sulla difficoltà del percorso allora era una gara particolare onestamente non pensavo fosse che si svolgessi in questa maniera nel senso che l'eliminazione alla volata ma pensavo ci fosse un giro da ripetere più volte non con il giro di Boa che è un ulteriore modo di spezzare il ritmo e quindi di rendere più faticosa questa gara è stato bellissimo perché alla fine sono tutti elementi che portano diciamo la fatica ad alto livello e che quindi fanno la gara e di conseguenza anche in quei casi in quelle situazioni si distingue chi poi porta a casa il risultato ora è tempo di prefissarsi altri obiettivi? sì il calendario è abbastanza pieno con due obiettivi importanti fino a fine anno che sono un importante mezza maratona a Valencia e poi speriamo di fare un buon risultato ai campionati europei di cross a dicembre passiamo al rally il driver molisano Fabio Luzzi sarà impegnato nel weekend nel rally di Pistoia al volante della Skoda Fabia R5 vettura con la quale ha corso l'ultima volta al rally del Molise nel 2020 sul sedile di destra a leggere le note ci sarà una Toscana Doc Miriana Gelasi sono tre le prove speciali da affrontare nella giornata di sabato ci saranno le ricognizioni al mattino e lo shakedown di pomeriggio domenica si andrà a caccia dei tempi migliori calcio regionale d'eccellenza il città di Sernea si prepara a far visita al campo di Pietra nel post gara contro il Guglionesi abbiamo intervistato Calcione Imperio Calcione giocatore del città di Sernea si torna a vincere contro il Guglionesi contava davvero tanto insomma ritrovare soprattutto autostima fiducia lo si vinceva tra l'altro anche da riscaldamento sei partito al centro della difesa insieme a Sabatino è contato a poco perché alla fine si è riuscito anche nell'assist del primo gol sono ritornate un po' le cose a posto possiamo dire così no era importante perché comunque noi come ho già detto all'inizio vogliamo vincere tutte le partite però ci sono anche gli avversari però la cosa fondamentale è che oggi l'Iserni ha messo l'atteggiamento in campo quello giusto perché comunque dobbiamo mettere l'atteggiamento almeno alla pari dell'avversario poi comunque abbiamo dei giocatori di qualità e comunque alla fine riusciamo a creare qualcosa di buono e dico che abbiamo giocato contro una buona squadra secondo me che farà bene e noi siamo stati più equilibrati non abbiamo preso gol e comunque ci sono tanti tanti segnali positivi oggi nel secondo tempo sei ritornato nel ruolo che forse più ti compete è stata una scelta tecnica comunque condivisibile no ma io sono a disposizione io penso che il mister se mi dice di giocare in porta gioco in porta figura dice io sono venuto qui con tanta comitata perché ho voglia mi diverto poi se il mister mi dice di giocare dietro giocare in mezzo al campo per me comunque non è un problema io sono a disposizione del mister della squadra e della società quindi dove mi dice di giocare io cerco di dare il massimo poi a volte ci si riesce come tutti a volte ci si riesce bene a volte meno bene però comunque l'importante è che la squadra oggi ha ritrovato i tre punti e ha ritrovato l'atteggiamento importante prossimo turno campo di pietra insomma fondamentale rimanere equilibrati insomma una buona rotazione di squadra abbiamo visto anche nel secondo tempo anche con qualche cambio di ruolo ma sai io questo questo giro non lo conosco la prima volta che lo faccio tutte le partite comunque sono difficili se non ha l'atteggiamento giusto l'abbiamo visto ad Oruri che comunque è una squadra meno blasonata del campo di pietra e abbiamo fatto fatica io penso che se mettiamo l'atteggiamento che abbiamo messo oggi in campo abbiamo più possibilità di fare il risultato pieno l'Aurora Oruri invece nel weekend torna a giocare con il favore del campo domenica arriva la Volturnia Antonio Ciliberti centrocampista dell'Ururi successo 3-0 qui a Gambatesa meritato che poteva essere anche più largo partita in cui nel secondo tempo l'avete condotta benissimo belle trame bel gioco e soprattutto uno spirito di squadra che si è visto sì ci siamo ripresi dopo la brutta batosta di mercurio in Coppa era importante ricominciare con il successo per raggiungere i nostri obiettivi per la salvezza al secondo tempo siamo stati anche agevolati dalla loro espulsione e quindi siamo riusciti a giocare meglio ma anche a prima abbiamo sviluppato un bel gioco una squadra che si può dire è sfrontata con le grandi l'abbiamo visto con la vittoria con l'Iserno forse questo vi ha dato consapevolezza dei vostri mezzi che dovrete portare avanti in questo campionato una vittoria che diciamo vi responsabilizza un po' certo noi cerchiamo di giocare tutte le partite sia contro l'Iserno oppure contro una squadra a materasso cerchiamo di giocare sempre con la stessa concentrazione per raggiungere l'obiettivo è importante fare punti contro tutte le squadre sia contro l'Iserno così oggi come in Gambatesa sia in trasferta che in casa quindi cerchiamo di fare il più punti possibile per raggiungere subito l'obiettivo nel campionato di promozione trasferta in basso Molise per il Ripalimosani che sabato sarà di scena al Cannarza contro il Termoli 2016 Antonio Mancini centrocambista del Ripalimosani Antonio arriva una sconfitta pesante nel punteggio però nel gioco non tanto primo tempo diciamo equilibrato sono tempo meglio loro alla fine hanno meritato sì è sicuramente una battuta del resto che non ci voleva avevamo l'avevamo preparata comunque bene ci siamo allenati bene in settimana però obiettivamente oggi non abbiamo fatto la prestazione che volevamo sicuramente merito e onore l'avversario è un'ottima squadra però è pur vero che noi insomma oggi non abbiamo dato il massimo soprattutto in casa insomma erano diversi anni che il Ripalimosani in casa non perdeva quindi qui ci si aspetta anche chi viene a vedere insomma i tifosi si aspettano qualcosina in più oggi non c'è stato insomma fino al gol c'è stato del gioco sicuramente poi non c'è stata però la reazione di voler pareggiare insomma sono stati fatti degli errori che poi hanno portato al risultato finale Antonio parliamo un po' del personale sei stato un po' fermo e poi adesso hai scelto di ripartire dalla promozione da questo progetto con il Ripalimosani tu qualche altro un po' più esperto guidate una squadra abbastanza giù sì per quanto mi riguarda insomma ho deciso già dall'anno scorso insomma di rimettermi in gioco perché ho sempre lavorato ho sempre sperato di riuscire a tornare e grazie a Ripa che mi hanno dato questa opportunità il gruppo sì è fatto di ragazzi siamo pochi gli adulti Udo Nato sì siamo io il capitano Nando questi sono i più grandi però devo dire la verità che i ragazzi sono veramente molto validi ci seguono ci ascoltano e si impegnano e sono quelli che insomma che in mezzo al campo corrono anche per i più veterani quindi il gruppo devo dire la verità è assolutamente valido oggi è una partita che non fa testo però sono convinto e sono fiducioso sulla squadra la tua esperienza Antonio questo è un game è nato forse molto molto livellato tranne forse un paio di squadre costruito un po' per salire di categoria prossimo turno adesso si va a Termoli su un altro campo complicato sì devo dire la verità ho visto io chiaramente stando lontano dal campo per un po' non conosco tutti però ho già visto giocando a Petacciato oggi sono comunque giocatori di livello non dimentichiamoci che Pifano fino a qualche anno fa faceva la Serie D Petacciato ho visto c'ha Mucci c'ha Travaglini c'ha Marcovicchio c'ha tutta gente che ha fatto campionati di eccellenza quindi oggi si ritrovano a giocare in promozione quindi sicuramente è un campionato livellato fatto comunque di persone che hanno giocato non conosco sinceramente ancora le altre però posso dire che quelli che abbiamo incontrato fino ad ora sono squadre valide La Turris sabato impegnata all'Acqua Santiani di Trivento per allungare la Serie Positiva Stefano Caiola capitano della Turris una Turris nettamente in difficoltà nel primo tempo contro il Baranello Sì è giustissimo loro hanno iniziato molto molto meglio di noi siamo andati in netta difficoltà ma sapevamo comunque della forza dell'avversario abbiamo tenuto testa nel primo tempo e poi alla lunga siamo usciti nel secondo tempo avete dovuto una concentrazione concentrazione che avevate perso Sì anche per bravura degli avversari però abbiamo trovato giusti equilibri alla lunga siamo usciti anche con le nostre qualità anche in attacco ma in tutti i reparti voglio dire Stefano ci avreste scommesso sul risultato ribaltato ma certamente cioè noi comunque partiamo sempre per vincere nonostante abbiamo finito il primo tempo sotto di 1 a 0 noi comunque siamo entrati a guerrì il secondo tempo e con voglia con tenacia abbiamo ribaltato il risultato e credo che sia giusto la vittoria sabato a Trivento non sono ammessi errori assolutamente sappiamo della forza dell'avversario soprattutto in casa noi ce la metteremo tutta per portare a casa questi tre punti fondamentali per la classifica Matteo Tarantino cacciatore della Turris autore del rigore autore dello sblocco dei dei tuoi compagni sì è stato un gol importante perché ci siamo sbloccati come hai detto a te ed era importante segnare quel rigore perché ci siamo rimessi poi in partita stavamo attaccando però non stavamo riuscendo a concretizzare sbloccando la partita poi ci siamo sbloccati anche sul punto di vista realizzativo avete sofferto tantissimo però nel primo tempo il gol è arrivato al terzo minuto forse non riuscivate a trovare concentrazione primo tempo abbiamo sofferto tanto perché stiamo passando un periodo davvero sfortunato a livello di infortuni anche oggi abbiamo dovuto rifare tutta la formazione perché durante l'iscaldamento due giocatori non sono potuti scendere in campo quindi abbiamo sofferto un po' a livello tattico il secondo tempo abbiamo dato qualcosa in più che ci ha fatto superare anche questo gap e intanto sabato vi attende il Trivento sì un trasferta dura speriamo di recuperare qualcuno e di giocarcela sempre è tutto per l'informazione sportiva serale del nostro Tg Sport vi ringrazio per la cortese attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata Grazie a tutti